Shalom, Shalom, Shalom. Prima di iniziare questa breve lezione voglio ringraziare e dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh nel nome di suo figlio e nostro re, salvatore e rendentore, Yahweh Shai. E i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Mewstone GMS per avermi insegnato questa verità e come sempre pace alla Casa di Israele a coloro che con sincerità cercano questa verità e lo fanno spaggere, lo fanno arrivare ai quattro punti della terra, salawam. E questa lezione sarà la continuazione della lezione precedente, ok? E' ispirato da quello che ho scoperto attraverso un apostolo della Great Mewstone GMS che si chiama Apostolo Aramla. Sì, inizio leggendo dal libro di Giove, capitolo 13, versetto 4, che dice Poiché voi siete inventori di menzogne, siete tutti quanti medici da nulla. Eh sì, inventori di menzogne e medici da nulla. Questo non parla altro di coloro che ci stanno governando oggi, ok? Coloro che sono le teste di questo regno, i figli dei malvaggi, i figli di Esaù, ok? E tutti i medici che abbiamo oggi, se non tutti, ma maggior parte, se non per non dire tutti, sono tutti medici da nulla, ok? Medici da nulla perché il sistema, c'era un sistema medico stabilito da sempre e prima. la gente si curava con le erbe, c'era la medicina, le erbe erano le nostre medicine perché i nostri corpi sono fatti di materia organica, ok? Allora si curava con materia organica, roba che veniva fuori dalla terra, ok? Che erano le erbe e quando sono andati in potere i figli dei malvagi dopo il rinascimento hanno cambiato tutto, hanno cominciato a curare un corpo organico con i chimici, ok? E questa è tutta un'altra lezione da rivedere, ok? Ma tutto per farvi capire che per diventare un dottore, per diventare un infermiere si va a scuola e vanno insegnati tutti con lo stesso schermo non gli insegnano nulla ma li indottrinano, ok? Devono fare specifiche cose per ogni malattia ed è quello non è che gli vanno a insegnare le cose come si deve loro vanno ad essere indottrinati di come fare le cose a modo loro, ok? A modo degli eliti, ok? E infatti queste medicine vi tengono a vita appena appena per farvi spendere tutti i vostri soldi per poi dopo morire ed è questo fate le vostre ricerche e io so che questa verità arriverà a coloro che sono stati destinati a riceverlo ma la maggior parte non capirà perciò lo lascio così, ok? E andiamo a vedere questa scoperta qui eccoci qui questa è l'immagine di un dei antico dei greci, ok? e sapete sempre che i romani sono venuti fuori dai greci, ok? che sono più o meno le stesse persone ma i primi veri greci non erano la gente che è è tutta un'altra lezione perciò non vado neanche a toccare quell'argomento qui argomento lì per farvi capire che i capi del mondo i nostri politici seguono uno schermo e quel schermo è questi dei qui dei antichi ok? dei pagani che non hanno nulla a che fare con il vero Dio ok? il vero potere di Israele che si chiama Yahawa ok? il suo figlio è Yahawa Shai ok? perciò tanti sono hanno gli occhi coperti e li vanno dietro tutte queste queste cose pagane ok? allora vi leggo questo è uno dei dei si chiamava Asclepio 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 o Esculapio Esculapio in greco antico ok? Asclepios è un personaggio della mitologia greca figlio di Apollo e di Arsione secondo Esiodo oppure di Apollo e Coronide ok? Coronide Corona ok? e andiamo avanti poi dopo ritorneremo qui per Pindaro è un semidio e dunque uomo mortale per Omero si diceva fosse stato istritto nella medicina del Centauro Chirone o che avesse realizzato tale proprietà dal padre Apollo diventa poi dio della medicina al pari di suo padre ed era una divinità molto adorata dal popolo in quanto benevola con gli infermi la costellazione del Ofiuco rappresentata dal suo mito ok? perciò se volete leggere di più andate a leggere di più ma vi faccio vedere qualcosa qui che questo questo dè qui che vedete è i dèi della medicina ok? i dèi della medicina perciò gli antichi grechi si rivolgevano a lui ok? per avere cure della medicina per avere cure vi faccio vedere un'altra immagine sua ok? queste sono altre immagini e guardate questa immagine qui che è sarebbe proprio immagine ben conosciuto sua vedete che lui ha sempre una staffa e quella staffa ha attoccilato il serpente ok? e dove è che vedete questo? lo vedete anche nei stermi della farmacia ho già fatto una lezione riguardo la parola farmacia ok? vedete comunque che è tutto legato a dei dèi antichi ok? vedete questa è un'altra foto vedete lui con la staffa vedete il serpente sempre ok? questi sono coloro che ci governano sono i figli dei serpenti ok? sono la generazione dei serpenti le vipere ok? sono proprio satanisti ok? e quello che volevo farvi vedere è che lui è figlio di Apollo e Coronide ok? andiamo a vedere figlia di Flegias ok? Coronide o Coronis ok? perciò come mai abbiamo un virus che circola oggi che si chiama Corona ok? ed è la madre dei dei è il nome della madre dei dei della medicina non vi fate pensare qualcosa? ricordatevi sempre avete a che fare con persone talmente intelligenti che hanno della conoscenza di cose ok? perciò per capire tutte queste cose qui bisogna che uno abbia la conoscenza che è lo Spirito Santo che è la Rukaku Dash ok? infatti come ho letto abbiamo letto qui sono inventori di menzonie e sono dei medici da nulla ok? se andiamo alle radici di tutte queste parole di questo versetto aprono altrettante altrettante altrettanti punti ma non andiamo a fare ciò adesso e voglio ritornarvi voglio ritornare a leggere come ho letto sul video precedente libro di Isaia capitolo 47 e versetto 10 che dice tu ti fidavi della tua malizia e dicevi nessuno mi vede la tua saggezza e la tua scienza ti hanno sviato e tu dicevi in cuor tuo io e nessuno altro fuori di me ok? loro hanno la saggezza ok? la scienza la conoscenza di cose ecco perché riescono a sviare la verità e a guidare tutto il popolo come un grege senza cevelo ha delle menzogne ok? andiamo a leggere il libro di Giove capitolo 5 versetto 12 che dice che sventa i disegni degli astuti sì che le loro mani non giungono a eseguirli ok? che prende gli alibi nella loro astuzia sì che i consigli dei scaltri vanno in rovina ed è questo che farà il padre a loro ok? i loro astuti i loro disegni ok? il padre li distruggerà presto ok? infatti siamo alla fine del loro regno non verremo più regnati da questo uomo di base da questi figli dei malvagi perché sono davvero malvagi ok? e ci guidano tutti in iniquità ok? è certo che tanti figli di Israele piace questo regno qui vogliono che questo uomo continua a regnare su di loro e sì anche loro sono benvenuti nella sua distruzione ok leggo dal libro di Geremia libro di Geremia capitolo 18 e versetto 12 che dice ma costoro dicono è inutile noi vogliamo camminare seguendo i nostri pensieri vogliamo agire ciascuno seguendo la capabilità del nostro cuore malvagio ok? questa gente è malvagia ok? e fanno le cose che hanno nel cuore sono le società segrete i culti segreti che hanno creato da per tutto e hanno messo anche in mezzo dei figli di israele che usano come come dei strumenti ok? per sviare il resto del popolo svegliatevi figli di israele venite fuori dalle menzogne e prima di chiudere questa breve lezione scusper un attimo un attimo voglio farvi vedere qualcosa che ho trovato interessante da condividere questo ha a che fare con i vaccini no? e parla di tutti i virus che ci ne sono stati ok? e quando sono stati scoperti i vaccini sviluppati per l'uso umano l'anno che hanno sviluppato e quanti anni che ci ha voluto vaccinare ok? vedete gli anni sono alti 35 anni 45 per approvare un un vaccino 12 anni quello dell'influenza è quello più basso 12 anni 17 e vedete quello del covid è uscito nel 2020 e c'è già il vaccino dopo un anno in meno di un anno questo vi fa capire che questi figli dei malvagi sono dietro a qualcosa e per ricordarvi sempre per ricordarvi sempre i dei della medicina che pregano per la medicina e tutto questo per le cure eccolo qui ok? e la sua madre si chiama Coronis ok? perciò hanno preso il nome della madre e l'hanno data a questo a questo virus qui ok? e è da vedere tutto con l'occhio spirituale tutto questo e prima di chiudere leggo un altro versetto leggo salmi era 21 il versetto 11 dice perché hanno macchinato del male contro di te hanno ideato malvagi progetti che non potranno attuare avete visto perché hanno macchinato del male contro di te hanno ideato malvagi progetti che non potranno attuare questi sono i loro progetti ok? hanno macchinato vedete che tutte le cose che fanno sono cose ben studiate per farvi capire e questo non sta parlando di tutti che non potranno attuare sta parlando solamente dei scelti ok? degli eletti e un terzo che sarà salvato non sta parlando di tutti perciò chi non fa parte di questi numeri qui è certo che sarà nelle mani dei malvagi ok? sarà bene nelle mani dei malvagi verrà distrutto per bene ecco perché noi siamo qui espaggiamo questa verità affinché i figli di israele possano svegliarsi e lasciare tutti questi sogni stupidi del mondo ok? e abbracciare la verità con tutto il loro cuore e camminare in rettitudine come richiede il padre e venire fuori da tutte queste pazzie qui tra poco stanno per festeggiare la ceremonia della morte la ceremonia pagana ok? che si chiama natale e capodanno tutte queste cose qui sono delle cose cattive da festeggiare ho fatto un video già in passato ma i figli di israele non vogliono sentire questo non vogliono ok? e questi figli di israele saranno distrutti assieme ai malvagi ok? perciò dice perché hanno macchinato del male contro di te hanno ideato malvagi progetti ok? che non potranno attuare e questo è per gli aletti detto questo spero che questa breve lezione vi è edificato lo lascio nel sacro nome del padre Yahawa nel nome di suo figlio Yahawa Shai e i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great per avermi insegnato questa verità qui e come sempre saluti alla casa di israele Shalawam alla prossima